Il Lecce vittorioso e resistente di Pagani è piaciuto solo mesura al tecnico giallorosso Alberto Bollini. La squadra che vorrebbe sempre vedere è durata poco ma, dispetto di altre esibizioni precedenti alla sua gestione, il Lecce di venerdì sera ha combattuto di fronte a una squadra che ha avuto più predominio ma che ha creato poco. Io credo che quando vinci non è tutto positivo e quando perdi se un gruppo sa essere squadra non è tutto negativo. Allora parto dal bicchiere mezzo vuoto, quando si è in vantaggio 1-0 abbiamo incontrato una squadra molto aggressiva, molto muscolare, molto reattiva e quindi c'è il merito dell'avversario ma c'è il nostro demerito. Il vero Lecce l'ho visto per 30 minuti, quando sapevamo stare corti nella fase di non possesso e soprattutto quando avevamo palla sapevamo palleggiare e arrivare bene tra le linee e vedi il gol dell'1-0 che è stata un'uscita perfetta. Questa è una cosa che avremmo potuto fare con più continuità però abbiamo tenuto bene il campo. Poi subentrano i meriti dell'avversario che ha preso coraggio, ha preso campo, ha attaccato con forza e onestamente il primo tempo se finiva con il risultato di pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. All'allenatore giallorosso non è piaciuto sicuramente il modo in cui la squadra ha messo nelle condizioni di esprimersi gli esterni d'attacco nel secondo tempo sostituiti entrambi come aveva fatto anche contro il Savoia. Perché abbiamo degli esterni veloci e avremmo dovuto tenere di più la palla. Poi è anche vero che quello che dice lei si è riscontrato nel secondo tempo una squadra comunque che, e qui vengo alle note positive, oltre ai 30 minuti iniziali dove abbiamo giocato un buon calcio nel secondo tempo si è visto un Lecce che ha saputo soffrire perché fa parte dello sport, fa parte del calcio e soprattutto fa parte della giornata. Un campo non di sicuro che predilige la parte tecnica, un campo difficile da giocare è un avversario molto difficile. Noi abbiamo saputo abbassarci, ma abbassarci con ordine. Quando siamo ripartiti, anche se la Paganese ha avuto più predominio, più possesso palla, abbiamo avuto più occasioni da gol nel secondo tempo. Questo Lecce che ha saputo soffrire la spinta della formazione di Sottil ha convinto non solo il tecnico giallorosso ma anche il presidente Tesoro il quale ha esternato la propria soddisfazione all'allenatore Bollini. Me ne dice tante cose il presidente, però vedete che c'è una presenza importante poi lui è presente anche con tutta la famiglia, vuol dire che il trasporto emotivo è molto alto era molto contento perché dice che comunque vede una squadra che sa lottare e soffrire e questa è già una gioia che noi gli diamo. Detto questo penso che la sua presenza valga più di tante parole. Soprattutto nel primo tempo la squadra della giallorossa è riuscita a rimanere corta piazzando una difesa molto alta. Nei movimenti il reparto Leccese ha fatto tutto sommato bene. La difesa è molto ordinata, è compatta. Considerate che subendo delle pressioni molto forti da parte della Paganese abbiamo avuto contro praticamente due palle e gol nella stessa circostanza e un corner. e quindi a palle in movimento la squadra, la difesa si è mossa molto bene. Il fatto di essere più alti o più bassi dipende molto anche dagli altri reparti. Se noi sappiamo aggredire nel centrocampo avversario è più facile stare corti e questo è quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Così per la seconda partita consecutiva il Lecce ha chiuso l'incontro senza subire gol. Sì, i numeri non dicono tutto ma a volte danno una buona fotografia. Abbiamo subito più stasera che la gara di domenica scorsa. La gara di domenica scorsa la squadra ha chiuso bene sempre gli spazi contro una squadra giovane che si ha saputo attaccare ma solamente in due circostanze hanno tirato da fuori. Questa sera non abbiamo subito gol perché in tanti momenti siamo stati bravi con i centrali, molto ordinati ma in una circostanza siamo stati determinati con Caglioni. Questo bisogna anche ammetterlo. Un aspetto sul quale il Lecce deve migliorare sono i tempi di giocata per i quali Bollini insiste moltissimo. Più tieni la palla meno corri, più tieni la palla più c'è la possibilità di creare azioni da gol. E questo è quello che vorrei vedere con più continuità da parte della mia squadra. Grazie a tutti.